Si rifiutarono di pagare la sanzione pecuniaria inflitta loro dal procuratore della Corte dei Conti, il dottore Sperandeo, sostenendo di aver agito in buona fede in merito agli atti messi a loro disposizione dagli uffici comunali competenti. Vennero assolti, ma i magistrati della Procura Generale scelsero di impugnare la sentenza dello scorso 24 settembre, rivolgendosi alla Corte d'Appello. Ieri è arrivata una nuova e definitiva assoluzione per l'ex Assessore Comunale della Giunta Fasulo, Marina Laboria, che reggeva la pubblica istruzione, e per l'ex Consigliere Comunale, Terenziano Di Stefano, già capogruppo di Articolo 4. La vicenda è riferita ai bilanci consuntivi del Comune Vigela dal 2010 al 2012. Tutti gli altri, una trentina tra Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, per timore di non potersi ricandidare o di risultare ineleggibili, pagarono la sanzione inflitta dalla Corte dei Conti, ammettendo la loro responsabilità di avere eluso il patto di stabilità. Fin dal primo momento, Laboria e Di Stefano avevano escluso di aver avuto responsabilità nell'intera procedura contestata dai magistrati contabili. Se avessero pagato, come gli altri, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Difesi dall'avvocato Girolamo Rubino del Foro di Palermo, i due ex amministratori comunali hanno affrontato i processi e ne sono usciti, come dicevamo, assolti.